Il porto di Lavagna sta riprendendo quote? Sembra l'apparenza esternamente, così vivendolo un po' per quello che sono gli utenti, si è stabilizzata su un giusto livello. Quello che veramente manca è la competitività nel lavoro invernale dei cantieri. Cioè il porto di Lavagna, a differenza di quello che hanno pensato gli amministratori precedenti, di questi amministratori che sono susseguite, è un porto non per l'estate, è un porto che aveva la sua potenzialità, viveva tantissimo sull'invernaggio delle barche, lavori, eccetera, eccetera. Però l'amministratore deve capire che il porto di Lavagna può lavorare d'inverno, è raggiungibile in treno, varie attività dal noleggio, il chart e le scuole. La sicurezza dei pontili è sistemata? Beh, se fate un giro in porto cominciate a vedere che i pontili stanno rifacendo uno a uno, come deve essere fatto da tanti anni e questo da una parte fa piacere, perché fa vedere che la direzione del porto sta lavorando per mantenere vivo questo porto. Voi avete preparato alcune proposte che riguardano la risistemazione di tutta l'area portuale. Su che cosa appuntate? Ma appunto, quello che forse manca ancora dopo 10-15 anni è questo fatto che il porto di Lavagna deve essere bello. Un esempio è la ristruzione del club che c'è, quindi con la piscina rimessa nuova. Ecco, quello è stato un esempio, ma sono depositati tutta una serie di lavori che, come comitato NT abbiamo fatto in collaborazione con l'Università di Genova, di architettura, ingegneria, eccetera, di come si può anche solo via De De Voto renderla un posto piacevole.